Oggi tutorial super semplice e super veloce, però secondo me è molto interessante. Vedremo come realizzare un effetto bloboso su After Effects. Ora ti chiederai cos'è un effetto bloboso. Un effetto bloboso ad esempio è quello che accade a queste due sfere qua di fianco. Cosa succede? Che queste sfere si uniscono come se fossero due liquidi insomma. Perciò vedremo come realizzare questo effetto in pochissimi passaggi su After Effects. Così che tu capisca come applicarlo a tutti i tuoi progetti, in caso tu ne abbia bisogno ovviamente. Come vedi l'animazione all'interno di questa composizione l'ho già realizzata. Non è che l'ho già realizzata perché non ti voglio far vedere come l'ho fatta, ma semplicemente perché non è importante. Mi spiego meglio. Quello che accade è che in questa animazione dei cerchi colorati si espandono dal centro e iniziano a girare intorno al cerchio più grande, quello rosso. Non voglio perdere tempo a spiegarti come ho realizzato questa animazione perché non è la parte importante di questo tutorial. E poi dai, non è troppo complicata. Sono semplicemente dei cerchi che girano intorno ad altri cerchi. La parte importante è capire come realizzare quell'effetto blobboso attraverso questa composizione che ho già realizzato. Perciò partiamo. Per prima cosa creiamo un livello di regolazione in modo da applicare ad esso degli effetti che verranno applicati automaticamente a tutti i livelli sottostanti. Dopodiché rinominiamo il nostro livello come effetto blobboso. Dopo non ci resta che andare a cercare l'effetto che si chiama controllo sfocatura. Perciò andiamo nella barra di ricerca degli effetti e predefiniti, che in questo caso da me è sulla destra dello schermo, e digitiamo la parola sfocatura. L'effetto che servirà a noi è uno degli ultimi. Come ti dicevo prima, controllo sfocatura. Perciò lo prendiamo, lo trasciniamo sopra il livello di regolazione, o facciamo doppio clic tenendo selezionato il livello di regolazione, e lo applichiamo. Dopodiché applichiamo una sfocatura al nostro effetto, all'incirca di 50, e mandiamo in play. Vediamo che comunque con la sfocatura già un po' i colori si iniziano a mescolare. E questo è un indizio. Dopodiché, qual è il prossimo passo? Anzi, direi l'ultimo passo. L'ultimo passo è rendere questa sfocatura nitida. Aspetta che quel 49,6 mi dà un fastidio, mettiamo 50, perché sennò veramente divento psicopatico. Come ti dicevo, il prossimo passo è rendere questa sfocatura nitida. Per farlo, andiamo a cercare un effetto che si chiama livelli. Digitiamo la parola livelli all'interno della barra di ricerca degli effetti predefiniti, e andiamo ad applicare questo effetto al nostro livello di regolazione. Non mi dilungherò troppo su questo effetto. Diciamo che in generale lavora con i colori. Detta molto semplicemente, diciamo che ha la capacità di diminuire i colori visualizzati. Non è proprio la definizione corretta, ma passiamoci sopra. In questo caso, però, io non voglio lavorare con i colori, ma voglio lavorare con il canale alfa. Andiamo ad attivare un attimo l'alfa nell'anteprima. Il canale alfa è il canale della trasparenza. Come vedi, non c'è uno sfondo. E quello che dobbiamo fare noi è rendere nitido il passaggio tra tutti i colori e lo sfondo. Per farlo, andiamo a lavorare con il nostro effetto sul canale alfa. Ora noi dobbiamo giocare con l'istogramma, che è quel grafico che vedi appunto nel nostro effetto. Come vedi, sotto l'istogramma ci sono tre freccette. Avvicinando queste freccette l'una all'altra, riduciamo l'ampiezza del canale alfa, rendendo così più nitida la nostra sfumatura. Se la spostiamo verso sinistra, avremo una nitidezza in eccesso. Mentre invece se la spostiamo verso destra, avremo una nitidezza in difetto. Mentre invece se la manteniamo al centro, abbiamo una nitidezza media, neutra, come ti pare. Adesso troviamo il nostro giusto compromesso, che all'incirca è spostato verso destra, ma non è proprio nella metà. E andiamo in play e vediamo che appunto tutte le nostre sfere diventano nitide e si amalgamano tra loro addirittura anche con i colori. Quello che abbiamo creato con il livello di regolazione possiamo definirlo un format. Ma che diavolo sto dicendo? Volevo intendere che possiamo definirlo un preset. Ma prima andiamo ad aggiustare un attimo l'istogramma perché ancora non mi piace troppo. Spostiamolo ancora un po' verso destra. Ma andiamolo in play e ora sì che è veramente un effetto blobboso. Comunque stavo dicendo che quello che abbiamo creato si può definire un preset. In questo caso è un preset perché se noi lo copiamo e lo incolliamo all'interno di altre composizioni funzionerà allo stesso modo. Perciò andiamo a selezionare il livello di regolazione, premiamo CMD-C su Mac o CTRL-C su Windows per copiarlo e andiamo in un'altra composizione. Come vedi questa composizione è completamente identica alla precedente con la differenza che tutte le sfere hanno gli stessi colori, anzi la stessa sfumatura. E anche l'animazione è completamente uguale. Ora andiamo a incollare il livello di regolazione nella nostra nuova composizione. Mi raccomando stai attento perché quando lo incolli verifica che il livello di regolazione sia sopra tutti gli altri livelli. Ma andiamo in play e come vedi l'effetto che si crea è completamente identico a quello di prima. Con la differenza che in questo caso le sfumature danno un po' più di vivacità alla nostra animazione. E sembra anche quasi in 3D forse. Un 3D un po' fatto male però un 3D può sembrare. In questo caso se vuoi cambiare i colori non c'è bisogno che vai a cambiare i colori di ogni singola sfera. Basta andare a cercare l'effetto 3 tonalità e applicare anche questo effetto al nostro livello di regolazione. Per poi andare a cambiare i colori, in questo caso mettiamo una tonalità di verdi. E vediamo che le nostre sfere blobbose cambiano tutto il colore senza troppi immattimenti. Ma questo preset che abbiamo creato funziona solo con le sfere? Assolutamente no! Infatti andiamo in un'altra composizione che ho già creato, dove ci sono dei rettangoli che si muovono a caso. Infatti la precomposizione che li contiene si chiama rettangoli a caso. E andiamo anche qui ad incollare il nostro livello di regolazione. Come vedi quello che accade è che sembra non funzionare. Ma questo solo perché il nostro istogramma è settato in modo un po' sbagliato. Perché ovviamente degli aggiustamenti saranno sempre da fare. Perciò andiamo ad aggiustare il nostro istogramma e vediamo che il risultato è molto interessante. Perché tutti gli angoli sia esterni che interni dei nostri rettangoli vengono tutti smussati. Io questa tecnica una volta l'ho utilizzata per realizzare un fumo molto stilizzato. Come hai visto è super semplice e super veloce. E ora potrai applicare questo effetto a tutti i tuoi progetti. Se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale, metti un mi piace. Ah, sai che mi sono d'istogramma? Ci vediamo al prossimo video.